Benvenuti in questo nuovo video del signor lusso, in questo video vi parleremo dei musei più stupefacenti da visitare prima di morire. Ogni città nel mondo e molte piccole città offrono uno o più musei dove poter imparare la storia, ammirare opere d'arte o avere esperienze uniche. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi e mettere mi piace se il video vi sarà piaciuto detto questo, via con la sigla. Numero 10, Kunsthistorisches Museum. Situato a Vienna in Austria, questo museo è una sorprendente collezione appartenente agli Asburgo. Erano estremamente ricchi e collezionisti di grande arte. La loro accumulazione a Vienna, una delle città d'arte più ricche d'Europa, include una vasta collezione di arti decorative tra cui sculture, carrozze reali, strumenti musicali, vibri, armature e persino un castello. Inoltre, presenta molti dipinti europei, così come antichità romane, egiziane, greche ed orientali. Numero 9, il Museo delle Tombe Reali. Questo museo situato vicino alla città settentrionale di Cicleio, in Perù, è un esteso museo di storia indigena. Esso presenta mostre speciali che includono incredibili manufatti scavati dalla tomba del Signore, Sipan nel 1987. Ci sono numerosi gioielli e persino manufatti reali esposti. Se sei interessato alla storia indigena, in particolare a quella che non riguarda solo gli Inca, non vorrai perderti questa tappa. Numero 8, il Museo archeologico nazionale di Atene in Grecia. Fondato alla fine del XIX secolo, questo museo possiede la più grande collezione di arte antica greca al mondo. È il più importante museo archeologico del paese, e si dedica esclusivamente all'arte antica greca. È un modo fantastico ed affascinante per scoprire come la connessione dell'uomo con gli dèi abbia influenzato l'umanità. Il museo espone i resti del passato, visibili soprattutto nella scultura in bronzo di Zeus del seguito secolo avanti Cristo, che lo rappresenta mentre lancia un fulmine. Offre uno studio non solo degli dèi, ma anche dell'umanità stessa. Il museo vanta oltre 11.000 reperti, e offre ai visitatori una moltitudine di opere culturali, storiche ed artistiche da scoprire. Dispone inoltre di laboratori di conservazione, archivi fotografici, numerosi seminari di archeologia, e molto altri. Numero 7, il Museo di Melbourne, in Australia. È uno dei più grandi musei dell'emisfero meridionale. Questo museo non solo insegna la storia di come Melbourne è nata, ma racconta tutto, dall'inizio dell'origine della vita nella regione di Victoria, 600 milioni di anni fa, fino ad oggi. Il museo ospita molte mostre in cui è possibile scoprire le profondità marine, vedere creature preistoriche, e anche dare un'occhiata allo spirito ancestrale chiamato Bungi. In questo centro culturale aborigeno appositamente progettato, chiamato Bunilaca, i visitatori possono anche godersi affascinanti film. Numero 6, il Metropolitan Museum of Art di New York, negli Stati Uniti. Anche noto come il Met, si trova un isolato dall'Upper East Side di New York, vicino a Central Park. Contiene opere d'arte raccolte da oltre 50.000 anni di conoscenza umana, potere, credenze e creatività. La vasta collezione spazia dall'Europa alle Americhe, dall'Asia all'Africa, e include molte opere antiche e classiche islamiche. L'arte contenuta assume la forma di fotografia, dipinti, costumi, sculture, vetrate, design di interni, armature, strumenti musicali, statue e altre antichità, tra cui l'intero Tempio Egizio del I secolo, avanti Cristo di Dendro. Naturalmente, questo è solo uno dei tanti musei affascinanti che puoi esplorare nella Grande Mela. Numero 5, il Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo, in Russia. Questo museo è uno dei più grandi e famosi al mondo. La sua collezione di oltre 2 milioni di opere, è ospitata in 5 diversi palazzi costruiti nel corso di 5 secoli. Ammirando ogni opera d'arte per soli un secondo, ci vorrebbero più di 3 settimane per vedere tutto. La collezione del museo include opere locali, ma anche pezzi di artisti come Matisse, Picasso e dipinti dell'Alto Rinascimento Italiano. Gli oggetti e le opere d'arte risalgono anche ai popoli che abitavano l'area dal VI al IV secolo avanti Cristo. Il museo presenta una vasta gamma di opere, dalle impressioni ai tesori orientali, che soddisferanno ogni appassionato d'arte. Numero 4, il Museo di Storia Naturale di Londra, in Inghilterra. Questo museo è un'opera di scoperta scientifica della biodiversità. Conosciuto anche come il museo di tutte le creazioni, è celebre in tutto il mondo. Qui è possibile ammirare spettacolari mostre legate al mondo naturale, come le gallerie sulla vita e sulla terra, le collezioni geologiche, e il giardino della fauna selvatico. Il museo ospita più di 80 milioni di esemplari che testimoniano ciò che l'umanità ha imparato dalle diverse forme di vita negli ultimi 250 anni. La vasta collezione è divisa in cinque gruppi principali, tra cui l'entomologia, la paleontologia, la botanica, la mineralogia e la zoologia. Questo luogo è stato al centro di dibattiti, ed è testimone dell'età del nostro pianeta Terra, nonché dell'evoluzione della vita stessa. Numero 3, il Museo del Louvre. Situato a Parigi, in Francia, è una delle migliori istituzioni culturali al mondo, ed è anche molto elegante. L'ingresso, costituito da una piramide di vetro contemporanea che attraversi sotterraneamente, sorge su una fortezza del XII secolo, e tra le gallerie, si trovano anche scalinate decorate del XVI secolo. In ogni stanza dell'edificio si trovano opere d'arte eccezionali, tra cui la famosa Mona Lisa di Leonardo da Vinci, e la Venere di Milo. L'incredibile collezione di arte e antichità del Louvre, copre ogni tipo di arte attraverso i secoli. Numero 2, il Museo delle Antichità Egizie. Con sede al Cairo, in Egitto, ospita alcune delle più sorprendenti scoperte archeologiche dell'intero paese. Conosciuto anche come il Museo Egizio, è una delle attrazioni turistiche più popolari, che ti mette faccia a faccia con la scintillante maschera d'olo di Tutankhamon, magnificamente elaborata e incredibilmente bella. Il Museo vanta una delle collezioni più estese di opere dell'antico Egitto, con oltre 120.000 oggetti in mostra. Costruito nel 1901 dalla Società di Costruzioni Italiana, Giuseppe Garozzo e Figlio, il Museo è una delle istituzioni più importanti di tutta la regione. Numero 1. Al numero 1 trabiamo i Musei Vaticani. Comprende alcune delle opere d'arte italiane più squisite del Rinascimento e dell'Alto Rinascimento, considerate tra le più belle mai create al mondo. Fondato dal Papa Giulio II all'inizio del XVI secolo, i Musei Vaticani ospitano decine di migliaia di opere d'arte esposte in circa 1.400 stanze. Tra le opere più celebri ci sono il Torso del Belvedere, il meraviglioso Laocoonte, primo pezzo ad essere stato acquisito, e la famosissima Cappella Sistina. Qui puoi anche ammirare i ritratti di tutti i papi a partire dal XVI secolo e una collezione di papamobili, tra cui le prime automobili utilizzate dai papi. Una tappa assolutamente imperdibile per ogni viaggiatore in cerca di cultura e arte. Ma non solo. Visitare un museo non è solo un'occasione per imparare e arricchirsi culturalmente, ma anche per sentirsi connessi al passato, ispirati per il futuro. E tu? Sei mai stato in uno di questi musei? Qual è stata l'opera che ti ha colpito di più? Raccontacelo nei commenti. Grazie per averci seguito in questa avventura alla scoperta dei musei più belli del mondo. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale, per non perdere i prossimi video. Un saluto dal signor Musso. A presto!